salve a tutti amici youtube sono il gioco calinico e benvenuti nel mio primo live commentary su battlefield 2 si andremo a giocare online questo bellissimo gioco anche se è molto vecchio un ultigiocatore in live commenta il mio primo live commentary dove dove insomma giocheremo in live cioè proprio non è che è già registrata la partita in live in diretta adesso io trovo un server taglio e vedo se trovo una partita eccoci qui allora prendiamo il cecchino 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 spawniamo qui c'è mi fa spawnare vediamo qui ok caro armato mio 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 ma non è un caro armato questo che diavolo è ma questo è un mio amico cazzo che figura di me sono tutti i miei amici questo è un amico no sono un handicappato blocco i miei amici molto intelligente quello è anche un amico eccolo qua questo preso perfetto c'è un car armato lì che cazzo stiamo entrando nella base nemica mi sembra sì sì spero di non fare una brutta fine preso guardiamoci sempre intorno cazzo cazzo ecco lo sapevo ci hanno detto c'è un movimento c'è un movimento qui sotto c'è un movimento nessuno ecco arriva una jeep arriva una jeep forse la freghiamo eccolo cazzo ma che cazzo spara ma baffa il culo va ok ma che cazzo è l'ho preso perfetto no se premo questo esce attenzione che cosa è sto cosa io santo eccolo sto cazzo che lo pigliavo sti ragazzi dove è andato preso preso è preso grande vai cazzo c'è qualcuno che mi spara adesso adesso muoio però come giusto che sia oh cazzo meglio scappare va mi ritiro quel bastardo dove è andato ma baffanculo va vabbè dai andate cazzo 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 è qui è qui ha ha calma calma devo scappare da qui devo scappare e ricaricare ok è morto ok stiamo calmi è morto cerchiamo di entrare nella loro base cerchiamo ovviamente io cerco sempre sento sparare eccolo eccoli adesso li prendiamo da dietro li prendiamo da dietro adesso che mira di merda non muore questo va tutti quei colpi non è morto ma baff è finita che partita di merda vabbè vediamo il resoconto vediamo il resoconto cazzo 7-6 vabbè abbiamo concluso un positivo direi di farne un'altra diciamone un'altra eccoci qui nell'altra partita e qui direi di metterci questo coso perché stracca caccando è una mappa proprio qua non si capirà niente infatti già stanno arrivando 2000 nemici scusami 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 non volevo non volevo non volevo perdona cazzo l'ho preso l'ho preso l'ho preso c'è uno qui preso 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 l'ho preso l'ho preso l'ho preso calma calma becca di questa oh cazzo l'ho preso no 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 cazzo vabbè sono morto sono morto sono morto di nuovo un medico no niente niente proprio grazie è animato tanto adesso non è un'altra volta non si capisce un cazzo più a questione di secondi questa mappa è proprio un casino uno che mi rianima niente morto l'ho ucciso io chi sente che cazzo sei che cazzo sceglie cose introvviso nemico proviamo a metterci a salto cambiamo un po' ma che si capisce niente 4-1 se no mi rianimo 1-4-2 4-2 sono una partita in merda mappa non è un po' mappa non è un po' sai che ti dico mi metto proprio qua sopra proprio a fare allo proprio a fare allo proprio a fare qui mettiamo a cerchino cerchino con un fucile d'assato e... oh! Ah, è caduto in un senato! Ti capito? Tutti morti, bene! E' affumico! Così non mi vedi! Che non scoppia la granata fumosa! Ah, ecco! Scoppia dopo! E' affumico! Morto, morto! Morto, morto! Oh! Morto anche questa! Morti tutti! Nasconditi, nasconditi! Adesso è tutto! Ok, ok, ok! Morto! Abbassati! So cazzo! Vaffa! Vaffa! Villo va! Caliente! Prendiamo... Sto bello G36C Anzi no! Prendiamo il G3! Era buono! Ieri l'ho provato il G3! Mi è piaciuto molto! Concentrazione! Oh! Qui! Prendiamo il G3! E muovo! Prendiamo cazzo! Prendiamo l'esercizio! Prendiamo la scena! Hi! Prendiamo il G3! Ho spavolato, sono morto! Proviamo un'altra arma! per quanto resta massante ho fatto una strage calmiamoci ho fatto una strage 10 4 ho fatto una strage in questo gioco poi non puoi vedere tanto quanto ammazzi perché chi esce a sinistra però viene inondato dalle altre cose che fanno gli altri cazzo che qualcuno cazzo c'è qualcuno c'è qualcuno volano tutti per l'aria volano tutti per l'aria ottimo arma di merda non mi piace mi piaceva questo prima abbiamo fatto una strage in questo gioco qui è tutto concentrato l'aria l'aria non si fa non so neanche da quanti minuti sto registrando non posso superare un certo limite la pappa la pappa la pappa let us ma un win how win fa stronza ma che figlio di troi adesso lo andiamo a prendere c'è uno qui addio stronzo a culo a stronzo quando cammina così cammina cammina non mi lo piglio ahahah si sono fottuto ma sono fottuto io sono fottuto io sono brutti scherzi ciao ma non muoio migliori sto cambiando quasi come il coglione vedo quasi la base nemica ma vaffa bene ragazzi il video finisce qui spero che vi abbia intrattenuto in questi minuti in questa decina di minuti se vi è piaciuto il video lasciate un bel mi piace magari commentate e iscrivetevi al canale grazie a tutti per i 129 iscritti e per le 5700 passe visualizzazioni quindi ci vediamo al prossimo video ciao ciao